Siamo al Webster Hall di New York, pensate che in questo locale, questo locale un tempo era uno studio di registrazione per le orchestre e hanno registrato qui i dischi di Elvis Presley, di Frank Sinatra, di Nat King Cole, poi è diventato un locale rock e qua hanno suonato i più grandi del rock, Visty Boys, Ramos, Nirvana, hanno fatto dei concerti qui per il jam all'inizio della loro carriera e niente, stasera siamo qui, è tutto esaurito, pensate un po', Webster Hall sold out, non male eh